Ecco, ci facciamo ufficialmente un giro per le bancarelle Come tutto, i pesciolini Come tutto molto nipponico Perché devo venire con gli americani a una Saxo-Massuri? Una cosa scortese proprio che mi facciano andare La Saxo-Massuri con gli americani Ma tra l'altro stanotte ho avuto l'abilità di sognarmi Non so perché, non so come Forse perché sto per diventare famosa Sto per diventare anch'io una sfigata vlogger Anche se loro sono diventati ricchi e famosi E ora non sono più degli sfigati vlogger Io sono ancora allo stadio primitivo Ma dove cazzo sono andati? Ho perso tutti Ops, ops Ops, le ho proprio ufficialmente persi Ok Ok, le ho persi No, no, proprio le ho persi Ehm, scusate Ma dovrei un ottimo ritrovare le persone che credevo di conoscere Mi sono distratta un attimo, porca troia Secondo, ah, vedo giapponesi Non vedo americani No, mi sono perso Sono proprio ufficialmente perso Non so, non so No, non so Ma dovrei un ottimo ritrovare le persone che credevo di conoscere Ehm, so